e come c'era rimasto chiuso dentro come c'era rimasto chiuso dentro papà come c'era rimasto chiuso come c'era rimasto chiuso tu con i compatti perché c'era la galleria io c'era giusto quando fa passare gli operai che erano a finire a stare alla casolina e tu stivi dentro ma no, noi abbiamo venito a spezzare la 150.000 fino alla certa e ci sta la centrale allora arriviamo al lago della centrale arriviamo l'unività a cercare a cercare e ci torniamo ma invece ti resta proprio di passare più dentro perché accorcevano e invece stava chiuso e invece stavamo chiuso con gente a presenza che erano una madre e questa è la centrale di Canterno ci stavamo guardando il lago era della di Viergo e praticamente il lago di Canterno è alimentato da dal fiume Cosa perché sta così il lago di Canterno in Parigi scompariva e dopo si ritrovava con l'acqua di Evane e tutto quanto era chiamato il goccio del diavolo quindi che sta facendo il bucio verso la stazione di Trevigliano noi ci stavamo indipendendo un lago che è rimasto quello ci ha spruzionato ci ha spruzionato quando ci stavamo Marcello Guadagnolo il Marcello Guadagnolo con la frusta lì allora e riportare le novità e era riuscito un altro buco di cose un altro lago e noi stavamo cì ancora che era parte di lì l'ha staccato più e la via ci ha girato attorno ma non so se è calato più perché è rimandato dall'acqua del fiume ma dove ci farà? no l'acqua del fiume poi l'acqua che porta sotto non ci basta l'acqua del fiume questa qua del canale? no no quella quella è la direttamente a giurare ah questa è un altro lago beh l'acqua di Cosa che esce alla centrale andrà a centrale in un altro fa direttamente a giurare a Canterno a Canterno 10-15 anni prima a tagliare la casa di Cosa di Tranca ci stavano i bucci si è spunturato allora è rimasto come un lago è rimasto nella via ci passa a fiamma e sto Zambalesta Zambalesta lo chiamiamo Zambalesta Agnello Zambalesta si è morto perché gli è crollata si va a lavorare in radio canale si va a lavorare e gli è crollata la pietra gli è crollata la pietra si è arrivata la pietra ci ha fredduto la pietra e l'ha portata lì c'è Tirocchi Tirocchi eh e il figlio Pietro 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 che poi fu è stato ammazzato dalla mamma dalla mamma e l'amante della mamma ma pensa tu che storia ma no capirai qual paese fu uno scandalo era bella la mamma con la figlia con la saluta è una bella bionda non ci guardi più in nessuna così no dopo che hanno stato pietra è rimasto a Valle alla isolata alla campagna ma non l'hanno arrestata a esse ma no chi ti ha arrestato l'arrestarono l'hanno chi ti ha arrestato ma dimmi tu che storia papà papà saluta fai così